bella raga dal vostro grande capitano napoli benvenuti in questo nuovo video è sempre forza napoli nella buona e soprattutto nella cattiva sorte meno 1 a napoli fiorentina valevole per la diciottesima giornata di serie a che si disputerà domani che domenica mezzogiorno e mezzo nel nostro tempo nel calcio diego armando maradona il napoli dovrà pensare alla pratica di domani e non la supercoppa il 20 mercoledì questo importantissima storica perché anche la juventus sarà impegnatissima in inter juventus domenica sera e c'è da dire che il napoli deve assolutamente vincere dopo la sconfitta ieri nel derby tra lazio e roma dove io capitano napoli nel video in descrizione nei pronosti ho azzeccato in piena perché aveva detto lazio e roma 1 a 0 over e napsi dovrebbe stare con uno spino in porta difensori centrali colibali mano las a destra isai per la squalifica di di lorenzo in campionata sinistra mario lui due centrocampisti centrali dovrebbero essere baccaio co e fabio ruizze i tre trequartisti insigni zirischi lozzano e petani e quasi sicuramente nell'ultima mezz'ora o già dal secondo tempo ritornerà mertens per essere subito titolare nella importantissima sfida del 20 di gennaio tra napoli e juventus supercoppa italiana allo stadio ma per serio staremo a vedere speriamo che napoli venga che si prepara il meglio nell'importantissima sfida di mercoledì di supercoppa tra napoli e juventus mettete un bel like questo video chi non si è ancora iscritto al mio canale iscrivetevi iscrivetevi al mio canale una buona giornata dal vostro grande capitano napoli ciao ciao a voi